Paolo, quello è Benni, lui e Peppe Siamo nel santuario dell'avvocata, madonna dell'avvocata L'unica madonna laureata, giusto? Paolo dovrebbe essere Senso offeso Dovrebbe essere l'unica Ma partiamo dall'inizio di questa storia Domenica 21 giugno, sto aspettando i ragazzi Appuntamento alle 6 e mezza Più che altro il problema è Benni Famoso ritardatario Una volta, e non sto scherzando, ha fatto 24 ore di ritardo Per dirvi Sto migliorando, visto che l'età 23 minuti di ritardo Si cambia da qua, è qua Benni, sembra sicuro di quello che fai In realtà no, spesso e volentieri Questa sicurezza nel qua, quasi, sono convinto È stata smentita poco dopo Allora, stiamo salendo Sono circa 6 chilometri e 600 Il santuario è lì giù e quindi adesso che abbiamo sbagliato strada proviamo a vedere se c'è un bel vedere più in alto Lì c'è la postiera Allora, stiamo salendo Allora, stiamo salendo Primo Secondo Terzo Allora, stiamo salendo 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 Allora, stiamo salendo